PULL SIGN Vi spiego subito come funziona Innanzitutto si chiama Zhou Shan E le dinamiche sono semplici come ho detto Infatti voi quando iniziate a giocare vi troverete di fronte a una schermata con una barrettina con sopra una pallina E in alto una barrettina un po' più piccola che muovendola dovrete respingere un'altra pallina che dall'alto vi viene incontro Per muovere tutte queste cose che ci sono nel livello basterà muovere il mouse E' l'unico comando che c'è E qual è lo scopo? E' tenere in equilibrio la pallina che c'è nella barra sotto E nello stesso tempo respingere la pallina che vi viene incontro con ovviamente la barretta più piccola Tutto questo però è contemporaneo perché infatti quando voi muoverete il mouse Si muoveranno tutte e due sia la barrettina grande che la barrettina piccola Infatti andando a destra ad esempio la barra grande si inclinerà alzandosi verso destra Quindi la pallina inizierà a rotolare giù Mentre la barra piccola andrà verso destra appunto E quindi tutto questo coordinarsi in tutto questo senza far cadere la pallina E senza far... e respingendo più volte possibile l'altra pallina più piccola Sarà davvero un casino ed è davvero difficilissimo E quindi è un gioco che vi consiglio E' uno di quei giochi a punteggio Dove più tempo rimanete in gioco più ovviamente il punteggio è alto Anche se qua non vi verrà proprio dato un punteggio alla fine Ma vi verrà proprio scritto quanto tempo siete riusciti a resistere E vi assicuro che le prime volte il tempo che resisterete sarà davvero bassissimo E anche una volta che vi sarete abituati non riuscirete mai a fare un gran punteggio Insomma un gran tempo Perché dopo un po' è davvero incontrollabile come cosa Perché poi anche il fatto che si controlla col mouse rende il tutto molto più sensibile E quindi se volete lasciate un bel commento dove scrivete il vostro punteggio O comunque cosa ne è presente del video se vi è piaciuto o così via Lasciate un bel mi piace Poi invito ad andare a vedere il video che ho pubblicato prima di questo Dove propongo un piccolo concorso Poi nel video spiego meglio tutto E nella descrizione c'è scritto ancora meglio E quindi niente Ci vediamo alla prossima